A seguito della conferma definitiva della chiusura dello stabilimento Tinkem di Villa Carcina, convalidata anche dai recenti incontri istituzionali, Confindustria Brescia è scesa in campo con l'intenzione di tutelare e salvaguardare i 106 lavoratori dello stabilimento Trionplino, ora disoccupati. Gli incontri con l'azienda e le parti sociali coinvolte non hanno sortito alcun effetto e pertanto Confindustria, guidata da Franco Gussali Beretta, punterà ora ad una strategia differente. Obiettivo primario è il ricollocamento dei lavoratori in altre realtà industriali del territorio e la ricerca di un possibile acquirente del sito produttivo. Si tratta infatti per la maggior parte di lavoratori altamente qualificati nell'ambito della meccanica, una delle specializzazioni ad oggi più richieste in provincia. Già diverse aziende hanno manifestato la disponibilità valutare la possibilità di un inserimento di una parte di questi lavoratori, una soluzione che dovrà necessariamente essere affiancata da una politica attiva di formazione e adeguamento. Parallelamente, come detto, si cercherà un possibile acquirente del sito produttivo con la possibilità di riconvertire lo stesso. Lo stabilimento occupa una superficie coperta di circa 17.000 metri quadri su 65.000 metri complessivi in un'area ad alta capacità industriale e produttiva come quella della Valtrompia. Ci aspettiamo che Regione Lombardia, visti anche i progetti di finanziamento di piene di formazione utili al ricollocamento dei lavoratori recentemente varati, possa assumere un ruolo centrale in questa vicenda favorendo un protocollo di intesa tra le parti coinvolte, dichiarato il presidente Beretta. Il tessuto economico della Valtrompia e più in generale di Brescia è solido e dinamico. Ci troviamo di fronte ad una crisi aziendale frutto solo della decisione di un grande gruppo internazionale e per questo motivo sono fiducioso in una soluzione positiva della vicenda.